buongiorno signori seduto comodamente nel giardino tra l'erba alta le piantine la gente che ti mette le macchine davanti come il solito d'estate qua a Sermione siamo messi così cominciamo con l'etichettina che ho fatto oggi al laser una chitarra ora siccome che ho già i programmini con gli strumenti musicali tipo sassofono violino chitarra viola eccetera eccetera pianoforte ora mi sono preso sempre in 3d in legno e alluminio qui non c'è una colata di plastica ragazzi cerchiamo di capire le cose e soprattutto cerchiamo di di dare il merito a chi potrebbe averlo non elogiare solo i guru solo perché vi riempiono la testa di imbecillate ecco e quindi vabbè dai comunque lasciamo perdere perché tanto quelle persone lì a me sinceramente non mi fanno né caldo e né freddo rompono solo i coglioni di tanto in tanto e siccome che alcuni di questi non possono tecnicamente venire ufficialmente nel mio canale mi mandano tutto la merda che di personaggi che i loro seguaci che vengono qua a me ogni tanto dicono il loro improperio penso di essere più furbi perché quando uno è un imbecille praticamente anche la raffinatezza di sentirsi più intelligente di un altro però insomma per carità ognuno arriva fin dove può ecco allora in rilievo in legno perché io questa io ho questo taglio laser per modellismo navale e mi faccio i miei soggetti fino a 20 per 15 come superficie e fino a 4 mm di profondità perché a me non è che me freghi niente di avere un centimetro di profondità e 80 per un metro perché devo fare tutte di da scalì e devo fare tutti i dettagli e quelle cose di che a me servono sul computer ho già preimpostato strumenti musicali case fasciame delle barche posso avere anche memorizzato anche che ne so natura paesaggistica e tutto dunque di conseguenza basta solo che tiri giù diciamo l'immagine che più mi interessa la modifico in altezza in lunghezza stringo alto l'accorcio perché questa chitarra quale posso fare anche due centimetri come la posso fare anche di 15 centimetri insomma ecco come questa qui è la misura giusta per le etichette bene allora qui ho fatto madre perla eccoli qua uguali madre per lato qualcuno ha detto falli vedere anche dalla parte opposta allora io provengo dal settore professionale quindi di conseguenza ho solo sospensione rigida ecco perché siccome che molti vengono rimbambiti dai superman dai super guru no perché d'altra parte loro devono vendere il loro prodotto io non devo vendere niente a nessuno di conseguenza le cose le faccio a seconda di quello che secondariamente a livello professionale o a livello di ascolto professionale non ho mai visto le casse con la sospensione morbida in foam tranne che in qualche sala di incisione che hanno il bordo in gomma e quindi è un po difficile che da parte mia usi le sospensioni morbide ecco quei woofer là che ho dato via da 16 centimetri 16,6 li avevo in casa e ho fatto un botto così tanto per fare per fare per agevolare un po' di persone a farsi le cassettine senza farsi depredare di centinaia di euro questo è stato il motivo per cui ho fatto quei kit lì che più che altro sono stato un omaggio anche se gli autoparlanti erano col bortino o con due puttanate diverse allora queste qua sono le due etichette eccole qua in alluminio come sto dicendo e in legno lavorato al laser ovviamente i woofer li ho vernissati in madre perla davanti ovviamente rispettare sempre quello che è il woofer sempre i soliti morsettini con tutto quello che serve fatto bene oltretutto io lascio non come gli altri che quando lo mettono le trecce li tirano appello per risparmiare perché non vogliono spendere qui le trecce le lascio anche un centimetro un centimetro e mezzo più lunghe perché tanto mica fanno male non è che che il suono vada da napoli a bolzano il suono rimane qua si tratta solo di fare i lavori fatti bene e di non avere miserie di impiegare materiale allora questi woofer qua in bianco madre perlato come del resto anche i driver e tutto quanto io ho preso su una distinta di persone con le quali potrei fare lo stesso discorso tipo david bowie jimmy hendrix brian ferri santana per esprado che avevano tutti l'abitudine di avere le giacche bianche e quasi sempre vestiti di bianco tutto di bianco anche jimmy hendrix era vestito di bianco aveva la chitarra bianca stratocaster mancina però la chitarra era destra e di conseguenza il motivo per cui ho fatto la chitarra destra bianca e lui la usava in questa maniera perfetto allora a me dispiace nell'altro video di aver detto non so a certe persone che sarebbe abbastanza utile che si inventassero qualche lavoro invece che sta lì a sputanare le altre persone c'è non altro non ho fatto altro che dire le verità a dirle per essere obiettivo però insomma non è simpatico però insomma è appropriato insomma ecco niente io vado avanti per la mia strada loro invece non sono capaci di andare avanti per la loro strada e di conseguenza cos'è che fanno devono andare a ispezionare tutti gli altri canali sotto falsi nomi venire a sfottere prendere in giro ma siete dei poveracci guardate avrete anche qualche laurea sarete avrete studiato fino a 25 27 anni ma siete ignoranti e mi dispiace dirvelo ma nella vita farete poco avrete avete questa possibilità di internet di esaltarvi un po in questi periodi ma dopo per voi la vedo magra e quindi cercate un po con la gente di avere un attimino più di rispetto e soprattutto di non sfottere perché non tutti sono coglioni come voi è bene allora lo scatolino eccolo qua come si presenta bene ragazzi con queste piccole immaginate adesso vado avanti a fare altre due tre cosucce che di altro genere insomma un kit l'ho messo in piedi adesso devo fare il filtro però insomma quello si tratta che quando metterò in piedi la bobinatrice farò una cinquantina di bobine siccome che sono tutti tagliati a 3200 hertz di conseguenza non è che me ne freghi più di tanto di farne 20 di farne 50 anche perché dopo alla fine quando io faccio le bobine mi servono sempre perché qui anche qui twitter da 3200 hertz siccome che di twitter ne ho un centinaio da a cupola morbida in seta e anche in titanio e 3000 hertz praticamente dopo basta giocare leggermente di condensatore invece di 4,7 mettere 4,5 che ci sono in italia non ci sono ma io ce li ho e posso giocare da 3000 e 2 a 3000 hertz insomma ecco oppure posso giocare a 4000 hertz mettendo un 3,3 microfarad ecco c'è a seconda del taglio che voglio fare insomma ecco tutto qua niente ragazzi queste qua sono le ultime realizzazioni adesso mi fermo per qualche giorno perché giustamente non sono fatto di ferro come dico sempre il mio scopo lavorativo nella vita l'ho raggiunto non devo più fare non devo più vendermi perché il 90 per cento di quelli che fanno i tele imbonitori anche se hanno se sono laureati non sono altro che dei ferragni dei ferragni che si vendono in prima persona cercando che attraverso di loro la loro presenza di vendere anche il loro prodotto come è caduta la ferragni cadranno anche questi personaggi perché se dietro all'immagine della persona non c'è nulla purtroppo va a puttane anche quel nulla e dopo inutile che dopo tentino di rialzarsi mettendo più in evidenza il prodotto che loro stessi perché quando loro andranno a puttane purtroppo saranno morti defunti cadaveri io da parte mia cosa volete che vi dica insomma alla soglia dei 70 anni ci sono arrivato io adesso metterò in ordine questa situazione qua perché domani o dopo domani butto via una cinquantina di bancali e butto via altre robe qui sotto il fico mi ricrea un'altra volta i due sdrai e mi metto lì con le pancia all'aria facendo qualche filtrino eccetera perché tanto ormai di kit hanno già fatti 4 o 5 e con comodo tiro avanti anche perché questi qua non mi servono per mantenermi servono solo per educare la gente ad avere qualcosa di bello senza essere svenati senza senza tagliarsi le vene io questi kit quali vendo a 280 euro completi di tutto dalla alla z quindi 140 euro però con woofer da 30 150 watt rms di potenza e di conseguenza che voi andare a comprare due casse in hi fi di 150 watt con luffa da 30 ci piantate entro un minimo 1.200 1.500 euro qui invece con 280 euro di kit completo siete capaci di farvi una cassettina o ve la fa il vostro falegname un paio di cassettine spenderete 300 euro bene avete speso 550 euro e ve li trovate con casse che costano 1.200 1.500 meglio anzi perché vi siete fatti voi le casse il lavoro di preparazione è stato fatto qua in italia e non in cina e di conseguenza sicuramente per quanto male cascate cascate sempre meglio rispetto alle casse da 1.500 euro vendute in bottega questo è garantito al limone ciao a tutti